Ciao a tutti, oggi siamo qui con Greta e Giovanni che hanno trascorso il loro anno di studio negli Stati Uniti e parleremo soprattutto della scuola in America. Ciao Greta, ciao Giovanni, benvenuti. Allora, partiamo subito. Greta, raccontaci il tuo primo giorno di scuola negli Stati Uniti, com'è andata? Allora, io sono Greta, sono stata 10 mesi in Texas, negli Stati Uniti. Il mio primo giorno di scuola, in realtà, io non sapevo neanche che sarebbe stato il primo giorno di scuola, di fatto, perché mi hanno detto che sarei andata là per scegliere le materie e poi in realtà ho proprio iniziato. Quindi io ero sicuramente tranquilla perché non avevo l'ansia del, oddio, sarà il primo giorno di scuola, quindi da una parte è stata meglio così. Alla fine ho parlato un po' con tutti, nel senso saluti di persone nuove, tre migliaia di facce che tanto sapevo che non mi sarei ricordata. È stato tutto un po' improvvisato, diciamo, però tutto bene, è stato, sì, è stato carino. Giovanni, invece per te com'è andata? Ciao, sono Giovanni e ho fatto l'anno all'estero negli Stati Uniti, in Michigan. Il primo giorno di scuola è stato un giorno molto importante perché ho incontrato nuovissime persone che mi hanno dato una buona impressione della scuola. Ho avuto tanti numeri nuovi di cellulare e soprattutto ho fatto il primo allenamento di calcio, grazie al quale ho conosciuto la mia squadra che poi è stata molto importante nel mio anno. Quindi tu hai fatto sport durante la tua esperienza? Sì, ho fatto calcio durante l'autunno, che è stato il primo sport che ho fatto, poi ho fatto basket in inverno e di nuovo calcio in primavera. Ho fatto anche i provini per baseball, però ho capito che non faceva per me, quindi mi sono ridato al calcio, ecco. Devo dire che sono state tre esperienze bellissime, con tre squadre diverse, soprattutto il basket perché io già facevo basket in Italia e ho vissuto un po' quel basket americano che tutti sogniamo di giocare, insomma, è stato molto bello. Greta, invece, tornando al discorso del primo giorno, hai avuto la possibilità di scegliere delle materie? Sì, allora, io ho scelto, potevo scegliere otto materie, tre in realtà erano già scelte, obbligatorie, quindi erano storia americana, matematica e scienze. Poi ho scelto cheerleading, proprio per provare il sogno americano al 100%, ma poi non faceva per me, quindi ho cambiato. Poi ho scelto altre materie, fra le più particolari, ad esempio floral design, che non mi sarei mai immaginata di fare, prima di partire. Poi, non so, ho provato materie come spagnolo, ma alla fine ho deciso di cambiare e per fortuna sono stati molto disponibili nella mia scuola perché hanno capito che io ero lì per fare la mia esperienza e quindi provare cose nuove. Quindi erano molto disponibili a farmi cambiare materie, ovviamente nelle prime due settimane massimo e poi una volta stabilita la mia routine scolastica con tutti i miei orari, ho ottenuto quella per il primo semestre, mi hanno fatto cambiare, avevo la possibilità di cambiare poi nel secondo semestre, ma ho deciso di tenere le materie che avevo. Poi ho fatto altre materie, come ad esempio scrittura creativa, che mi ha un po' aperto la visione verso il mio futuro perché poi mi ha aiutato nella scelta universitaria anche. Giovanni, anche la tua scuola era semestrale, come funzionava l'anno scolastico? Sì, allora l'anno scolastico era diviso in due, quindi primo semestre e secondo semestre. Io ho fatto delle materie nel primo semestre che poi ho continuato nel secondo, mentre altre che ho fatto nel primo poi non le ho continuate e ho cambiato. Per esempio anch'io come Greta ho fatto spagnolo, ma poi era abbastanza, diciamo, semplice il livello e quindi ho cambiato e ho fatto psicologia che come a Greta è stato molto utile fare questo perché poi mi ha aperto la strada per, appunto, psicologia, che è quello che penso di voler fare all'università. e ho fatto delle materie molto affascinanti che non avrei mai fatto in Italia e consiglio, appunto, a chi farà l'anno all'estero di non scegliere cose che sa già come saranno, ma appunto di avventurarsi e di scegliere cose che lo affascinano, lo incuriosiscono. Greta, a te chiedo le verifiche, i compiti, le interrogazioni, come si viene giudicati nella scuola americana? Allora, già giudicati è una parola che io toglierei perché non ho mai sentito pressione del giudizio o del voto in America e quindi è stato proprio un anno rilassante dal punto di vista scolastico perché facevo cose che mi piacevano e quindi le facevo con tranquillità e serenità. Poi anche il rapporto con i professori è molto, diciamo, alla pari. Già il fatto che nell'inglese non ci sia la forma del dare del lei dice già tanto sul rapporto che c'è con i professori. Comunque i voti erano principalmente su test che facevamo in classe e spesso c'era il ripasso proprio con il professore sul test specifico quindi io non dovevo studiare a casa. Il pomeriggio erano abbastanza liberi perché non avevamo molti compiti e quelle poche volte che le avevamo in particolare in una materia che era scienze dove dovevamo fare dei progetti, delle ricerche nei quali venivamo poi valutati e per il resto dei voti si erano cose fatte in classe perché appunto non avendo molti compiti non ci davano voti sui compiti. Giovanni, tu quando sei arrivato negli Stati Uniti che anno hai frequentato? Come sei stato inserito? Come eri con i tuoi coetanei? Come funzionava? Allora, il primo giorno ti stabiliscono di che anno farai parte perché il liceo americano è diviso in quattro anni e a me hanno messo nell'ultimo che erano i seniors appunto quindi ero un senior per la scuola americana che è il quarto anno di superiore italiana. I seniors per esempio assieme ai juniors partecipano al prom quindi gli ultimi due anni partecipano al prom però in realtà cioè il fatto che sei un senior non fa sì che farei amicizia solo con gente che è dell'ultimo anno perché io avevo amici in tutti diciamo gli altri anni quindi questa è una cosa molto positiva. E come si conclude l'anno negli Stati Uniti per i senior? Beh, alla fine dell'anno c'è una festa che si chiama Senior All Nighter e praticamente tutti i senior vanno in un bus che viene organizzato appunto dai genitori dei ragazzi dell'ultimo anno ed è previsto appunto una notte fuori questo autobus ti porta in un posto che non sai dov'è e fai un sacco di attività sport, balli quindi è stato molto divertente ed è sicuramente una notte cioè diventerà sicuramente una notte indimenticabile ecco Greta Giovanni ha nominato il prom che immagino sia una delle feste ma come funziona diciamo la scuola organizza delle feste delle attività anche diciamo che aiuta i ragazzi con la vita sociale? Sì allora noi abbiamo fatto nella mia scuola ci sono stati due balli quindi l'oncoming in autunno e poi il prom a fine anno in realtà in primavera il prom è stato a me sta particolarmente a cuore perché la mia scuola mi ha eletto quindi i miei compagni mi hanno eletto regenta del ballo quindi ho vissuto un po' ancora una volta un po' come essere in un film americano proprio è stato bello proprio come esperienza perché per me il prom è iniziato molto prima quando ho comprato l'abito perché sono andata con una mia amica e la sua mamma e la sua famiglia con la quale ero molto legata e siamo andate a prendere appunto l'abito ad Allas che era abbastanza vicino a dove vivevo e questo abito tra l'altro l'ho portato anche a casa non l'ho noleggiato proprio l'ho comprato e l'ho potuto mettere anche per il mio diciottesimo quindi è come se ancora al mio diciottesimo fossi un po' legata ancora agli Stati Uniti e questo è stato molto bello è sicuramente uno degli aspetti più positivi del mio anno all'estero credo Giovanni a te chiedo l'anno scolastico viene valutato immagino secondo delle documentazioni che si riceve dalla scuola americana nel tuo caso cosa hai portato a casa dalla scuola americana? io sono stato fortunato perché sono stato in grado di avere il diploma americano quindi questa è una cosa appunto molto rara e per questo mi considero fortunato perché si ho chiesto alla scuola americana se potevo in qualche modo far sì di avere anche il diploma americano e loro mi hanno detto di fare alcune materie che servivano a loro per far sì che io avessi tutti i crediti necessari e dopo averlo fatto appunto ho potuto partecipare alla graduation che è appunto la giornata di chiusura del liceo e dell'anno scolastico ed è stato molto bello perché è un po' anche quello fa parte un po' del sogno americano che vediamo nei film ovvero la giornata dove ci mettiamo le toghe le divise e si lanciano i cappelli c'è proprio fatto quella cosa lì e è stato molto bello poi anche i rapporti con i professori l'ultimo giorno sono tutti affettuosi con te eccetera e quindi sì mi porto a casa il diploma americano che insomma è tanta roba parliamo di questioni pratiche Greta come andavi la mattina a scuola? come ti spostavi? allora io sono stata molto fortunata perché vivevo vicino alla scuola avevo 5 minuti di macchina e c'era proprio il mio padre ospitante che mi portava tutti i giorni perché portava anche la sorella più piccola perché avevo una sorella ospitante lei faceva le medie però la scuola era nello stesso complesso medie e superiori e quindi avevo il passaggio tutti i giorni se l'annata che è ritorno dal padre ospitante poi quando capitava ad esempio di uscire con i miei amici la hanno la patente più presto rispetto all'Italia cioè prima rispetto all'Italia e quindi i miei amici mi portavano in giro ad esempio per andare a mangiare da qualche parte o per fare uscite fra amici ok e invece nel tuo caso Giovanni come ti spostavi? beh io mi spostavo principalmente grazie ai miei genitori appunto e ai miei amici perché come ha detto Greta lì hanno la patente già a 16 anni quindi quasi tutti i miei amici che erano quasi tutti del penultimo anno quindi erano juniors e avevano già la macchina e la patente e i miei genitori ospitanti si sono fidati di loro dopo che li hanno conosciuti ovviamente e quindi mi lasciavano andare a scuola con loro tornare con loro andare ad allenamento insieme e questo è stato un fattore che ci ha molto uniti perché appunto in macchina fai quelle conversazioni lì che non faresti se appunto non ci fossero quei momenti e io sono stato fortunato perché il mio migliore amico abitava nella mia stessa strada quindi ero proprio diciamo on his way come dicono gli americani e quindi ogni cosa che facevo praticamente andavo con lui però diciamo che in genere i genitori ospitanti sono disponibili a portarti dove ti serve dove vuoi basta che tu glielo comunichi ecco in tempo ok per quanto riguarda i libri come ti sei organizzata? sono costosi? come funziona? allora a scuola non avevamo bisogno dei libri in realtà perché era tutto molto più tecnologico ogni classe aveva i suoi computer uno per ogni studente e gli unici libri raramente che abbiamo usato erano quelli di Florel Design che però la scuola ci forniva per la lezione stessa e in prestito semplicemente poi le restituivamo sì si lavorava principalmente a computer e su schede stampate dai professori quindi ho dovuto pagare nessun libro aggiuntivo ok parlando ancora di materie Giovanni tu nel tuo caso hai avuto la possibilità di cambiarle di modificare un po' il tuo piano di studi e se sì chi ti ha aiutato? sì allora nella scuola americana c'è appunto una figura che è il counselor che ti aiuta in tutte queste cose un po' diciamo burocratiche e infatti per esempio io all'inizio della scuola avevo scelto spagnolo come materia come lingua in più oltre all'inglese però dopo mi sono reso conto come ho detto prima che il livello era abbastanza semplice quindi l'ho cambiata ed è stata quella la figura che mi ha aiutato a cambiarla e questo è possibile appunto nelle prime settimane in realtà io non ho cambiato tante materie perché ero abbastanza contento con quelle diciamo che mi sono trovato a fare però sia possibile in caso cambiare materie ecco avete prima nominato entrambi la vostra famiglia ospitante come è stata l'esperienza con la famiglia? cosa vi è rimasto di più? lo chiedo prima a te Greta hai avuto la possibilità di fare qualche attività qualche viaggio com'era la vostra quotidianità? allora in realtà la mia famiglia ospitante era abbastanza diversa da quella che ho qui in Italia perché qua avevo una sorella più grande invece là avevo due sorelle più piccole addirittura comunque in realtà con loro ho sviluppato un bellissimo rapporto ci sentiamo ancora adesso con loro ho avuto la possibilità di viaggiare siamo andati in West Virginia durante il Thanksgiving break quindi in occasione del ringraziamento in realtà ho viaggiato anche un po' diciamo per i fatti miei nel senso non con loro ma con altri exchange student perché è stato possibile perché l'agenzia su cui si appoggiava e stadi in America ha organizzato altri viaggi con altri exchange student che sono state esperienze davvero belle sono andati in particolare in California e alle Hawaii e invece nel tuo caso Giovanni a parte il viaggio e le attività ma com'era la quotidianità di una famiglia americana o nel tuo caso della tua famiglia americana? allora beh innanzitutto la mattina mi svegliava mia mamma ospitante quindi non usavo neanche sveglie come invece faccio qui in Italia e questo è stato un fattore che ci ha molto unito infatti con mia mamma ospitante tuttora mi sento giornalmente e abbiamo estratto un bel rapporto e poi in realtà giocavo molto con mio fratello ospitante che era più piccolo di me soprattutto a basket perché avevamo il campetto cioè avevamo un canestro fuori da casa e poi le famiglie americane spesso hanno un animale domestico che è quasi sempre il cane e noi avevamo appunto un cane a cui mi sono molto affezionato e anche lì è stata una nuova cosa per me perché in Italia viviamo in un appartamento e non abbiamo spazio per un cane mentre lì avevamo un sacco di spazio e quindi anche giocare con il cane portarlo fuori e ecco sì è stata una cosa nuova e molto bella e poi anche non so i momenti durante la mattina quando andavamo a scuola io e mio fratello ospitante mia mamma ospitante ascoltavamo sempre la musica loro mi facevano sentire la musica appunto americana da campagna che io non conoscevo e che adesso amo e io gli facevo sentire alcune canzoni che loro non conoscevano e quindi c'è stato questo scambio di cose molto bello ecco allora siamo all'ultima domanda ve la faccio a bruciapelo fra il sistema scolastico italiano e quello americano Greta parto da te quale hai preferito? allora sicuramente prenderei un po' da entrambi sia quello italiano anche quello americano ma sicuramente preferisco il divertimento americano e tu Giovanni? beh secondo me bisognerebbe diciamo costruire una via di mezzo tra i due sistemi scolastici prendere per esempio dall'Italia l'approfondimento dei programmi mentre dall'America diciamo gli aspetti più moderni quindi il fatto che sono più efficienti più tecnologici i professori sono più umani che quelli in Italia che sentiamo molto distanti nei studenti mentre in America è tutto più non voglio dire colloquiale ma ti senti parte di qualcosa e ti senti parte appunto della scuola e ti senti quasi in una famiglia vorrei dire grazie ragazzi per il vostro contributo e ciao a tutti 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 ciao a tutti